Cercare sempre la verità senza fare i propri interessi, un messaggio che il Vescovo ha lasciato a docenti e alunni alla messa di Natale per il mondo della scuola. Avere il cuore puro e la mente sincera, due aspetti fondamentali oggi per chi insegna e per chi studia. Tu hai dei pregiudizi o hai l'animo libero? Hai la mente pulita? Hai il cuore sincero? Perché se hai il cuore sincero e cerchi davvero con disinteresse e non per quello che ti piace, allora troverai la risposta. Per gli insegnanti della diocesi la ricerca della verità resta una sfida quotidiana. È proprio un po' una lotta perché i ragazzini respirano l'aria che respiriamo tutti e quindi capiscono che forse c'è la convenienza che viene prima di altre cose. Invece è tutto il lavoro per il recupero della verità, la verità dei loro rapporti, la verità dello stare insieme, la verità anche dei rapporti educativi con noi adulti. È un lavoro che si fa. C'è stato anche chi ha la celebrazione natalizia nella chiesa delle Giannelline Amare di Chiavari, ha portato al Signore le difficoltà di questa prima parte dell'anno, tra le novità della riforma e la mancanza di insegnanti. Gli alunni ovviamente un po' ne hanno risentito perché chiaramente si sono visti tanti volti nuovi e anche nel corpo docenti questo è stato comunque un fattore che ci ha spinto a collaborare di più, a dialogare di più con gli altri e a chiederci che cosa dobbiamo fare appunto in questo momento storico. Alla messa di Natale erano presenti vari istituti, alcuni studenti si sono cimentati nei canti, al termine piccolo momento di condivisione all'esterno della chiesa. Com'è stata questa prima parte dell'anno scolastico? Tutto a posto, per ora si aspettano diversi risultati per interrogazioni e verifiche. Il rischio è detto di non avere paura del Signore, di portarlo anche a scuola, questo come si può fare secondo te? Comunque essere gentili col prossimo, non fare ciò che non vorresti che fosse fatto a te.